Grazie. Una prova a microfoni funziona, direi molto bene. Vera? Andrea cominciamo? Buonasera a tutte e a tutti, spero mi sentiate, se non è così segnalatemelo, sono Vera Schiavazzi di Repubblica, ho il piacere di moderare questo dibattito. Buonasera a tutti, con me ci sono da destra verso sinistra Andrea Giorgis, presidente del PD piemontese, docente di diritto costituzionale, le due cose vanno dette contestualmente in questa sede, Pierluigi Castagnetti, parlamentare del PD, presidente della Giunta per le autorizzazioni a procedere, alla mia sinistra Gustavo Zagrebelsky, presidente emerito della Corte Costituzionale, editorialista di Repubblica, che è anche il mio giornale, e presidente di Libertà e Giustizia, e ancora a sinistra Luciano Violante, che non ha bisogno di alcuna presentazione in questa sede, tuttavia è presidente emerito della Camera e soprattutto responsabile nazionale delle riforme per il PD. Il dibattito di questa sera, l'anima profonda della Costituzione, prende il suo spunto da un vecchio, vecchio nel senso che sono passati 5-6 anni, convento di Gustavo Zagrebelsky su Repubblica. In quella sede si cominciava a parlare, anzi si parlava già piuttosto vivacemente di riforma della Costituzione, come Zagrebelsky ricordava, si ma se ne parlava in modo particolarmente vivace e anche, come dire, acceso, se non è anche polemico, se non ricordo male, Zagrebelsky ricordava come le Costituzioni abbiano anche, come dire, una loro fisionomia naturalistica, sollevata fin dal Settecento, spesso peraltro per contrastarle, cioè in sostanza ricordava in quella sede anche i migliori ingegneri della Costituzione non potrebbero scriverne una se non tenessero conto di quali sono le caratteristiche di quel paese, di quel popolo che si vuole costituzionalizzare e potrebbero ottenere risultati anche molto lontani dalle loro intenzioni. E quindi ricordava una cosa che secondo noi, insomma, secondo chi ha promosso questo dibattito non è affatto superata, cioè la necessità di tenere conto del contesto politico, sociale, culturale dal quale si parte e di guardare a quello a cui si vorrebbe andare per poter eventualmente valutare appieno le caratteristiche di una riforma. Da questa cosa naturalmente ne discendono diverse altre, per esempio, un paese ha bisogno di una figura carismatica, di un leader, di un presidente oppure non ce l'ha, mi pare che si possa dire che questo bisogno ha dato in Italia dei cattivi risultati in questi anni e che quindi forse una riforma dovrebbe tenerne conto. Oppure quali sono i contrapesi che si possono mettere nella valutazione o rivalutazione del ruolo del Parlamento e dei partiti quando si pensa a qualche formula di tipo semipresidenziale. E ancora, quali leggi elettorali ne possono derivare, quali contrapesi le stesse leggi elettorali possono mettere a tutti questi temi, pensiamo al tema della preferenza che secondo alcuni offre agli elettori una maggiore libertà e dunque un contrapeso effettivo all'eventuale potere carismatico oppure no. A tutte queste domande sono giunte, come dire, poche risposte nette e inequivoche in questi anni, mentre altri paesi come la Francia e la Germania sembrano avviarsi più decisamente verso delle formule di rivalutazione, di riqualificazione, se così posso dire, del sistema parlamentare, da noi si continua a discutere in un modo che appunto a chi ha promosso questo dibattito sembra alquanto ostratto e non tenere sufficientemente conto della situazione e anche di quello che abbiamo imparato in questi anni così difficili. Partendo dal paese che c'è e da quello a cui si vorrebbe arrivare e avendo alla mia sinistra Gustavo Zagrebelsky a cui pensavo di dare la parola ma invece lui mi suggerisce di chiedere più democraticamente chi vuole intervenire, io lo farò, ma insomma Zagrebelsky è stato a lungo in prima fila nella difesa della Costituzione che c'era e del suo non stravolgimento, diciamo del suo non stravolgimento che penso sia forse e per questa ragione io pensavo di dargli la parola per prima, però se non vuole, vuole. Intanto ringrazio gli organizzatori dell'incontro e tutti i presenti. Lo spunto è questo articolo del 2006, io francamente non mi ricordo che cosa avessi scritto perché di parole se ne sono sprecate tante, diceva Vera Schiavazzi che nel 2006 si discuteva canitamente. Queste discussioni sulla riforma della Costituzione nascono nel 1979 a seguito di un celebre articolo di Giuliano Amato pubblicato sull'Avanti di allora che era intitolato La Grande Riforma. Ci siamo estenuati per tutti questi anni nella discussione sulla migliore delle Costituzioni possibili e con risultati tali per cui ancora oggi ne parliamo. Ora, che cosa è una Costituzione? O meglio, il titolo di quell'articolo era L'anima della Costituzione, o lo spirito della Costituzione. Ora, l'anima, vabbè, non sottilizziamo. Ora, le Costituzioni servono a costituzionalizzare la politica. Sembra una banalità. La politica, ma che cosa è la politica? La politica è un'attività che è mossa da idee politiche. Qui siamo sul piano delle pure tautologie. Idee politiche. Consentitemi di fare una piccola... userò il mio tempo su questo punto che secondo me è fondamentale. Ci sono due categorie di idee. Quando Archimede, immergendosi nella vasca da bagno, trovò il modo di calcolare il volume del suo corpo, coincidente con lo spostamento dell'acqua derivante dalla sua immersione, e allora era un problema questo. Come si fa a calcolare il volume di un ente, di una sostanza che non ha una forma, o perlomeno ha una forma difficilmente misurabile. Quando si immerse e gli venne in mente come si poteva calcolare quel volume, disse, eureka, ho avuto una idea. Quando Newton, sto un po' banalizzando, cascò la pera sulla mela, sulla testa, e scoprì la legge della gravitazione universale, probabilmente, penso anche lui, è eureka. Ho trovato, ho trovato l'idea che mi serve per risolvere un problema. Quando noi, e qui ci avviciniamo, quando noi chiamiamo un tecnico per risolvere un problema idraulico o elettrico a casa nostra, ci rivolgiamo a qualcuno che ha delle idee tecniche. Le idee tecniche non sono idee politiche. Le idee tecniche sono quelle che servono a risolvere un problema in condizioni date, in condizioni sulle quali noi non possiamo intervenire. E se ci pensiamo, questa nozione di idea è una nozione conservatrice, o restauratrice, o riparatrice. Serve a mantenere, a tappare i buchi, diciamo così, a risolvere problemi particolari in un contesto dato. Questa non è la politica. La politica è la immaginazione, è la produzione di idee sui contesti. Noi non diremo mai che un idraulico è un politico, ma noi da un politico, da una forza politica, ci immaginiamo che vengano elaborate idee per l'appunto sul contesto. Idee che ci servono a prendere posizione e ad agire per modificare il contesto in vista di un assetto che ci pare buono o migliore. Nella politica ci può essere un'attività tecnica che serve ad affrontare i problemi emergenti per chiuderli, per tappare i buchi, e questa è la tecnica. Oppure ci può essere un'attività che è rivolta a immaginare un futuro diverso da quello che c'è, tra le varie opzioni politiche, tra le varie opzioni possibili. Queste sono le idee politiche. Allora noi ci dobbiamo, secondo me oggi, trattando di Costituzione, porre di fronte a questa alternativa. Abbiamo bisogno di istituzioni che servono semplicemente a tappare i buchi. Tecniche dunque. Abbiamo un governo tecnico. Il governo tecnico è lì per l'appunto, per tappare le falle, per mantenere il sistema che ha prodotto quelle tali difficoltà nelle quali ci troviamo, inutile che stiamo a discutere, ma salvaguardando il contesto in cui c'è, in cui opera. E quindi da questo punto di vista, adesso non sto facendo una valutazione politica, i governi tecnici sono essenzialmente governi conservatori. Sono lì per conservare l'esistente e per evitare il crollo. Il che naturalmente è una cosa del tutto rispettabile. Noi sappiamo benissimo che se non ci fosse questa attività tecnica, il rischio che l'Italia correva e corre probabilmente sarebbe un rischio che nessuno di noi si augurerebbe di dover correre. Sarebbe una tragedia sociale. Però la politica è un'altra cosa. La politica è quella tale immaginazione, quella tale forza, che ci porta a metterci al di sopra, governare le condizioni. Ora, secondo me questa è la grande sfida che l'Italia ha oggi in questo momento. Riuscire a immaginare da parte delle forze politiche e anche istituzioni che siano in grado di recuperare una dimensione politica. Perché guardate che il rischio è gravissimo, il rischio della depoliticizzazione. Se noi diciamo che nella sfera pubblica, nella sfera costituzionale, c'è solo la prima attività, ma perché mai dovremmo andare a votare? Perché mai dovremmo chiedere alle giovani generazioni un impegno politico? Lasciamo fare i tecnici. Sarebbe un avvizzimento della democrazia, anzi forse una fine della democrazia, una tecnocrazia. Ecco, questo io penso che sia il primo problema che noi ci dobbiamo porre, che è un problema che viene prima delle riforme costituzionali. Le riforme costituzionali sono una, diciamo, razionalizzazione di un'idea politica. All'assemblea costituente quest'idea politica era vivissima. La nostra costituzione contiene un'immagine di società che non c'era, ma che le forze politiche di allora si immaginavano. Ecco. Allora, qual è l'immagine della nostra società che noi ci immaginiamo per il nostro futuro? il nostro. Per quelli che... Aspicchiamo. Aspicare non guasta. Basta leggere la Costituzione. La Costituzione non è un insieme di norme che servono ai rattoppi. La Costituzione contiene una serie di norme che prefigura un certo tipo di società e quindi richiede una politica in vista di quella società e costruisce delle forme anche... Basterebbe l'articolo 3 insomma inutile tre secondo... primo e secondo comma che immaginano un programma di trasformazione sociale a cui segue poi una organizzazione dei poteri dello Stato che è conseguente a questa visione. Non si può a mio modestissimo modo di vedere distinguere prima parte e seconda parte della Costituzione. La seconda parte della Costituzione è stata prevista come diciamo un grande canale una grande canalizzazione di forze che provengono dal basso si organizzano attraverso i partiti politici lo so che sto dicendo cose che sembrano lontanissime dalla situazione attuale ma questa è una sfida attraverso partiti politici organizzazioni associazioni quello che volete che mobiliti esigenze e bisogni dal basso li coordini trasformi i bisogni individuali o settoriali in pezzi di progetti politici e allora si capisce l'importanza dell'associazionismo politico del pluralismo sociale del Parlamento come luogo centrale di elaborazione di tutto questo rapporto Parlamento governo e così via ecco se noi ignoriamo tutto tutto questo corriamo il rischio di pensare a riforme istituzionali che o servono ai soggetti politici che oggi sono presenti come forme di autotutela di semedesimi e quindi di autodifesa di quel diciamo di quel tanto di potere politico sociale che hanno acquisito ma un potere sempre più declinante come è facile immaginare oppure riforme puramente efficientistiche che servono semplicemente a mettere la macchina costituzionale nelle condizioni per esempio di decidere più rapidamente ma la domanda per un costituzionalista è decidere per decidere o che cosa decidere in vista di che cosa naturalmente questo in vista di che cosa non è neutrale rispetto alle modifiche del sistema istituzionale sia esso il sistema elettorale o la forma di governo ho finito grazie a Gustavo Zagrebelsky che avendo chiuso il suo intervento in forma di domanda da Pierluigi Castagnetti la possibilità di rispondere io so che le penultime cose che Zagrebelsky ha detto riferendosi all'idea che i padri costituenti avevano di forze di spinte che dal basso producevano associazionismo partiti forze mobilizzazioni che poi si trovavano nel Parlamento la loro composizione la loro mediazione tra interessi legittimi e probabilmente musica per le orecchie di Castagnetti che in qualche modo ha sempre sostenuto che il Parlamento dovesse mantenere e ritrovare il suo ruolo centrale nel sistema tuttavia Zagrebelsky ha concluso con una domanda decidere per decidere o decidere per fare che cosa io gliela giro così com'è io mi trovo un po' in imbarazzo lo confesso perché sono l'unico non costituzionalista tra gli interlocutori di questa sera e quindi rappresento insomma comunque io lo abbiamo sempre considerato costituzionalista noi siccome ha maneggiato sempre anche oggi per il Partito Democratico insomma ecco è preposto a trattare questi argomenti insomma lo considero un costituzionalista io non sono un accademico e rappresento quella categoria di profani che però sono stati educati all'impegno politico attorno alla carta costituzionale e vi devo dire che la mia preoccupazione in questo momento è la preoccupazione che questa generazione la mia generazione le nostre generazioni siano tra le ultime a considerare la costituzione come la legge suprema dell'ordinamento si dice che le costituzioni sono le leggi che i popoli si danno nei momenti di loro maggiore saggezza per difendersi dai momenti di loro dissennatezza quindi per fortuna che abbiamo la costituzione che ha arginato derive e rischi nei tempi recenti però non vedo devo confessare a voce alta non vedo soprattutto tra le giovani generazioni che si accostano alla politica questa convinzione così ferma sulla non voglio dire la sacralità ma sul valore veramente fondante e garante insomma che la costituzione esercita nei confronti del modello democratico io ricordo sono stato in parlamento europeo in una stagione in cui ho ascoltato ho avuto la fortuna di ascoltare personalmente sia Cole che Mitterrand che vennero nel momento in cui cominciava il semestre di presidenza del loro paese ed entrambi sostanzialmente ci dissero questo noi abbiamo siamo molto preoccupati perché sta finendo questa generazione che ha visto la guerra e che ha inventato l'Europa e temiamo che una nuova generazione di politici europei che non hanno avuto questa esperienza finiscono per perdere il valore la ragione per cui noi abbiamo fatto l'Europa in questo modo nessuno dei due era tra i protagonisti all'inizio del secondo dopoguerra ma insomma erano già giovani impegnati in politica e quindi conoscevano il grande valore dell'Europa credo che lo stesso discorso si possa fare per la Costituzione e io sono preoccupato non solo per le nuove generazioni di ceto politico e ceto parlamentare per la tenuta ecco nella difesa della Costituzione delle nuove generazioni di ceto politico ma sono preoccupato perché anche nel popolo se io penso che noi in questo decennio all'inizio di questo decennio siamo riusciti ancora a bloccare con un referendum una modifica inaccettabile della Costituzione che è una maggioranza parlamentare la maggioranza di destra del Parlamento aveva fatto e siamo riusciti in quell'occasione ancora a mobilitare la gente a mobilitare la gente attorno al tema della difesa del valore originario della Costituzione non so se oggi saremo in grado di ottenere lo stesso risultato tanto è stato devastante questo decennio è stato devastante per molte ragioni e su diversi piani ma anche su questo piano allora a me pare che insomma io sono molto preoccupato soprattutto di questo vedete io ho assistito alla fine del 1994 a un straordinario dibattito fra Nilde Iotti e Dossetti a Monteveglio nell'autunno punto del 94 in cui Dossetti disse perché si era creato quel clima e disse eravamo all'indomani della seconda guerra mondiale 55 milioni di morti la divisione del mondo in due blocchi la invenzione della bomba atomica cioè lo strumento per la prima volta l'umanità aveva lo strumento per autodistruggersi non per vincere un nemico ma per autodistruggere se medesima avevamo tutti la consapevolezza del grande rischio che si correva e questo ha contribuito a creare quel clima per cui nell'assemblea costituente siamo andati da posizioni diverse e siamo riusciti a scrivere quel testo straordinario che è la nostra carta costituzionale che sarà approvata dal 90% circa dell'assemblea costituente il clima è importante vuol dire il senso comune la consapevolezza dei rischi e delle opportunità che possono verificarsi se si fanno alcune cose o se non si fanno alcune cose oggi questa questa tensione nel paese non c'è e lo considero uno degli effetti perversi del decennio berlusconiano si è relativizzato tutto Leopold Elia parlava del processo di decostituzionalizzazione della costituzione la si è relativizzata come una legge fosse una legge ordinaria una legge come le altre nella coscienza della gente a mio avviso non c'è più in misura sufficiente la consapevolezza che la costituzione non è una legge come le altre per la ragione che per le ragioni che sono appena state dette anche dal presidente e dal professore Zagrebelsky allora a me pare insomma che questo è un problema che almeno assilla me insomma da tempo penso a questo processo e all'approdo di questo processo e lo verifico insomma nel dibattito quotidiano anche nelle conversazioni per cui la difesa della costituzione sta diventando una difesa che non è condivisa alla stessa maniera da tutti anche nel nostro campo nel campo della sinistra lo voglio dire proprio perché ripeto questo è un allarme una preoccupazione allora perché questa costituzione ci interessa ci interessa difendere per le ragioni che ho detto ma anche perché è costruita attorno a dei cardini che a mio avviso sono ancora cardini irrinunciabili l'unità l'indivisibilità del popolo italiano della nazione ma intendevano dire il popolo italiano l'unità l'indivisibilità e poi la centralità della persona dei diritti della persona dei diritti personali l'articolo 2 l'articolo 3 sono appena stati citati sono straordinari da questo punto di vista rivelano l'influsso anche di dottrine di pensiero che capograssi esposito insomma di filoni di pensiero molto molto importante rosmini arriva a dire non i diritti delle persone la persona è il diritto la persona è il diritto pensate noi stiamo discutendo dei diritti oggi ed è un dibattito che qualche volta ci divide anche ma come è fondamentale nella nostra carta costituzionale il concetto della persona e dei diritti che sono irrinunciabili che non sono che sono appunto e che vengono prima delle istituzioni all'articolo 2 si dice addirittura si usa quel verbo riconosce la Repubblica riconosce cioè ammette che vi sono delle cose che sono più importanti di essa Repubblica che la precedono che non può toccare e tra le cose più importanti sono i diritti delle persone la Repubblica riconosce quel passaggio che si è fatto nel dibattito dalla commissione di 75 all'assemblea quando si è passati dal verbo fondare al verbo riconoscere la Repubblica è fonte dei diritti no la Repubblica riconosce ci sono alcune cose che sono intangibili perché sono precedenti la Repubblica che sono i diritti soggettivi ma guardate che c'è una potenza ecco in questo principio e poi il valore appunto la nostra è una Repubblica parlamentare perché dicevano quei due interlocutori che vi ho citato prima in quel dibattito la nostra ambizione andava oltre la divisione dei poteri di Montesquieu noi non volevamo semplicemente dividere i poteri ma aumentare i poteri e aumentare i luoghi nei quali il potere era partecipato a proposito di presidenzialismo e di centralità del Parlamento e di centralità del Parlamento io sono contro il presidenzialismo essenzialmente per questa ragione noi vediamo che cosa sta accadendo nel mondo ha parlato il professor Zaglebeschi del governo tecnico mi permetto semplicemente aggiungere che i governi tecnici arrivano quando si manifesta la paralisi della politica non c'era nessuna ragione perché arrivasse un governo tecnico se non l'impossibilità della politica di dar vita a una qualsiasi maggioranza e quindi bisognava pur saltarne fuori di fronte alla crisi e alla dimensione drammatica della crisi in cui è coinvolto soprattutto l'Occidente e l'Italia non poteva rimanere senza governo i governi tecnici non sono la fisiologia della democrazia sono la rivelazione di una patologia che è a monte e perché la politica è impossibilitata è incapace a decidere che allora possono uscire soluzioni di questo genere promosse peraltro con l'esercizio di poteri che non sono propriamente definiti nella carta costituzionale ad esempio da parte del Presidente della Repubblica che però ha il problema di garantire la continuità della democrazia nel rispetto della carta costituzionale e quindi agisse come motore di riserva rispetto a un Parlamento che è bloccato che è paralizzato ma i governi tecnici sono l'espressione della paralisi e io sono preoccupato su questo Luciano Violante può dirci delle cose molto più precise sono preoccupato della inconcludenza della incapacità della impossibilità che il Parlamento sta manifestando anche oggi per almeno per risolvere la questione della legge elettorale è una ulteriore manifestazione di impotenza e se si accumulano le manifestazioni di impotenza è evidente che la democrazia corre dei grossi rischi per il presente e per il futuro vedete nella opinione corrente della gente è la politica che è incapace la verità la verità è che siamo messi sotto tutti come se le responsabilità fossero uguali le nostre e quelle degli altri e delle altre forze politiche ma il dramma è che noi dimentichiamo che la gente dimentica che questo Parlamento anche se il governo è cambiato è lo stesso che ha espresso il governo Berlusconi e in uno dei due rami del Parlamento al Senato quando si ricongiungono e capita sempre quando c'è la possibilità che questo possa avvenire lo fanno quando si ricongiungono il PDL e la Lega hanno la maggioranza assoluta la gente accusa tutti di essere incapaci di fare la legge elettorale e non distingue tra le responsabilità noi stiamo cercando di fare una legge elettorale se mai ne discuteremo poi più precisamente ma ci troviamo di fronte a questo ostacolo che non abbiamo noi del campo della sinistra una maggioranza non per decidere a maggioranza perché secondo me la legge elettorale in una democrazia che funzioni la si fa con una maggioranza larga ma perché questa maggioranza larga che si è costruita attorno al governo Monti questa strana maggioranza non è una maggioranza politica non ha una piattaforma politica non è la maggioranza della grossa coalizione tedesca dove c'era un accordo politico qua non c'è nessun accordo e dovendo vivere la giornata dobbiamo misurare sempre con questo ostacolo loro esercitano la forza dei numeri anche di fronte alla esigenza che la ragione impone anche a loro di cambiare la legge elettorale esercitano l'arroganza della forza dei numeri e questo che cosa determina determina la paralisi e se noi non riusciamo a portare a casa ad approvare una legge elettorale che sia sensata perché non basta una legge elettorale qualsiasi ecco va a finire che il giudizio nella nella opinione pubblica rischia di sedimentarsi ulteriormente il giudizio della paralisi della politica la politica non è capace di fare niente neanche questa cosa Monti ha l'onere di governare questi qua hanno solo una cosa da fare fare la legge elettorale e non ci riescono quindi andate a casa tutti non servite a niente è un rischio grossissimo quello che stiamo vivendo in questo momento ma abbiamo il dovere tutti di di parlare con la gente di spiegare qual è la diversità delle responsabilità nella paralisi che si sta determinando perché un giudizio che tratti tutti nello stesso modo è un giudizio liquidatorio non delle diverse forze politiche ma rischia di essere liquidatorio della democrazia grazie io so che so perché gli ho parlato che Andrea Georgis non è altrettanto pessimista anche se lo è naturalmente per alcuni versi gli chiederei di intervenire rapidamente sui due punti principali che Castagnetti ha toccato e cioè da un lato la mancanza di una condivisione così forte dei valori della Costituzione soprattutto tra i giovani di cui Castagnetti sollevava la preoccupazione e in subordine le cose che poi credo appunto Violante vorrà integrare nel quarto intervento cioè il rischio che la difficoltà di partorire una legge elettorale trascini nell'opinione pubblica con uguali responsabilità tutte le forze politiche è difficile non partire dalla constatazione che il livello di sfiducia che oggi è presente tra i cittadini verso la politica verso le istituzioni è uno dei come dire aspetti più più drammatici e più gravi e ha ragione chi dice che la riforma della legge elettorale è necessaria anche per contrastare questo brutto rapporto e in qualche misura recuperare un po' di fiducia però però io credo che dobbiamo specialmente in un'occasione come questa in una in una festa di partito avere anche la lucidità per riconoscere come le regole possono possono molto ma non tutto e come questa sfiducia dei cittadini nei confronti della politica abbia origini molto lontane e talvolta non la si prenda sul serio e non la si affronti di petto con tutta quell'energia che sarebbe necessario invece investire per contrastare tutte le diverse manifestazioni di questa sfiducia perché questa sfiducia si alimenta di alcune parole d'ordine si alimenta di alcuni luoghi comuni per esempio la sfiducia nei confronti della politica e senza che questo venga sempre diciamo esplicitato la sfiducia nei confronti della pubblica amministrazione e la sfiducia nei confronti dello Stato e la sfiducia nei confronti di tutte le forme di mediazione politica e la sfiducia nei confronti dei partiti ora se noi cominciassimo come dire a insistere sul rapporto che c'è tra costituzione diritti idea di società che la costituzione prefigura e ruolo dei corpi intermedi necessità dei partiti se con forza si cercasse di spiegare che dei partiti non si può fare a meno se si vuole prendere sul serio il testo costituzionale non è possibile che i principi costituzionali si inverino se non ci sono dei soggetti che organizzano la realizzazione di quei principi e organizzano la condivisione di quei principi l'adesione al testo costituzionale non è un prodotto spontaneo naturale che viene così perché a un certo punto si prova a leggerla e si scopre che in realtà il disegno che viene indicato è desiderabile ed è una società nella quale sarebbe bello vivere non è così che si realizza l'adesione e il consenso ai principi costituzionali occorre che ci siano dei soggetti politici delle forze politiche che attraverso l'organizzazione e attraverso l'organizzazione del consenso pongono in essere degli atti e strutturano dei rapporti di forza che sono in grado di dare seguito ai principi costituzionali allora muovere da questa considerazione molto molto banale ci porta per esempio a non lasciare passare nessuna diciamo manifestazione di antipolitica o di semplificazione demagogica quando per esempio si sente dire e lo sentiamo dire da dirigenti politici lo sentiamo dire da persone che ricoprono o che aspirano a ricoprire incarichi importanti che bisognerebbe che la politica facesse a meno del finanziamento pubblico bisogna sovbalzare e cogliere immediatamente il rapporto che c'è tra questa affermazione tra questa affermazione e in qualche misura il contribuire a destrutturare la capacità prescrittiva della Costituzione stessa perché se volessimo essere come dire intellettualmente onesti forse bisognerebbe interrogarsi non se è necessario il finanziamento pubblico ma se è desiderabile che ci possa essere anche il finanziamento privato e non il contrario questo è un piccolo esempio che ci dice però quale tipo di ribaltamento logico si stia consumando nel dibattito politico com'è possibile garantire uguaglianza di condizioni com'è possibile garantire luoghi momenti occasioni di confronto e di partecipazione se non c'è una destinazione di risorse pubbliche che consenta alla politica di essere autonoma dall'economia e svolgere quella funzione di governo dell'economia che consente di realizzare quei principi che venivano prima ricordati il principio ricordava il professor Zagrebeschi il principio d'uguaglianza è il secondo comma e il secondo comma è un'idea di società è un'idea di società che però per essere realizzata ha bisogno che ci sia una pubblica amministrazione che opera una ridistribuzione di risorse che organizza servizi che fa sì che a tutti sia garantito l'accesso a una certa quantità essenziale di risorse ora questa opera di ridistribuzione di organizzazione di beni e servizi può avvenire solo se ci sono dei soggetti che sostengono questa proposta e questi soggetti per sostenere questa proposta hanno bisogno di essere dall'economia che aspirano a regolare indipendenti e per essere indipendenti hanno bisogno quindi di avere risorse che non sono ottenute dalla diciamo spontanea volontà dell'economia stessa sono queste considerazioni banali però sono considerazioni dalle quali secondo me bisogna ripartire se si vuole davvero prendere sul serio il disegno di società e i principi che caratterizzano la nostra Costituzione e quindi quando si sente discutere del finanziamento pubblico quando si sente discutere del ruolo della pubblica amministrazione o quando ci si interroga su come debbono essere concretamente garantiti i diritti allora bisogna avere quella capacità di collegare un grande diciamo una grande prospettiva ideale agli strumenti concreti che sono necessari per poterle realizzare perché a me sembra che quello che si sta diciamo verificando nel nostro paese non è solo una perdita di tensione ideale nei confronti dei principi costituzionali che pure diciamo forse la avvertiamo tutti ma la cosa ancora più grave è che a questa perdita di tensione ideale corrisponde poi l'adesione a una serie di luoghi comuni e di principi che sono del tutto incompatibili con questi principi che proprio non è possibile tenerli insieme non è possibile non è possibile pensare a una democrazia nella quale tutti possono contare qualche cosa e fare a meno dei corpi intermedi e scommettere tutto sull'investitura carismatica dei leader pensando ad un Parlamento che siccome costa lo cancelliamo così risparmiamo e investiamo direttamente l'esecutivo allora questa che diciamo purtroppo sono battute che fanno breccia che strappano applausi sono qualche cosa in realtà che rappresenta a mio avviso la più grave minaccia del nostro tempo ai principi costituzionali grazie Andrea temo che tutti si aspettino da Luciano Garante che ci spieghi il perché non si riesce a fare la riforma elettorale e anche che risponda a taluna delle preoccupazioni gravi in particolare sui luoghi comuni di cui Andrea diceva poco fa anche se magari è stufo di farlo in tutte le sedi in cui va ma insomma temo che ci si aspetti da lui un punto della situazione ma io vorrei partire da quello che mi è sembrato un po' un filo degli interventi che mi hanno preceduto e cioè questa questione dell'uguaglianza che riguarda il modo in cui si guarda la società a che tipo di società vogliamo e lo dico perché oggi è un giorno particolare tutti quanti abbiamo seguito sui telegiornali il ricordo dell'assassinio di Caldo Alberto della Chiesa ma nessuno un momento un momento no no però voglio dire ma nessuno ha ricordato che con lui è morto un agente di polizia che si chiamava Lorusso perché continuano a distinguere i morti di serie A e i morti di serie B contro il principio d'uguaglianza nella memoria nella memoria e guardate che il problema del fatto che tutti i telegiornali abbiano dato lo stesso tipo di notizia e nessuno ha riflettuto su un fatto che lì su quella macchina oltre alla moglie di Caldo Alberto della Chiesa c'era un uomo che poteva stare tutt'altra parte ma stava lì in quel momento a curare nei limiti dei possibili la sicurezza e quanti sono quelli che sono morti per curare la sicurezza di altri tutti dimenticati tutti dimenticati guardate questo è il primato del principio di disuguaglianza allora io dico questo perché un partito politico come il nostro deve stare molto attento a queste cose e se devi avere un'idea di società come giustamente diceva Gustavo Zagrebelsky prima lo devi impernare attorno ad alcuni valori e uno di questi per noi non può che essere quel valore lì come costruisci condizioni di uguaglianza in un paese come il nostro e attorno a questo puoi vedere quali sono i tipi di interventi se ci devono essere o meno di carattere costituzionale seconda questione ma noi qualche volta chiediamo alle istituzioni mi riferisco al Parlamento in particolare quello che il Parlamento non può dare perché dico questo perché noi abbiamo un sistema sostanzialmente costruito sul Parlamento da una parte e i partiti dall'altra con i partiti che avevano un'enorme forza un'enorme rappresentanza un'enorme legittimazione e il Parlamento che era il luogo nel quale i partiti misuravano i propri argomenti e decidevano tutto questo faceva sì che il Parlamento di cui qui si è parlato che il Parlamento noi diremmo oggi funzionasse e voglio darvi un dato per far capire questa cosa nella prima legislatura quella che va da 1948 a prevedo una cosa sapete cos'è il voto segreto il voto segreto è il voto che si fa segreto ed è il momento nel quale le opposizioni molto spesso possono prevalere perché nella loro posizione confluisce anche una parte della maggioranza i cosiddetti franchi tiratori che votano coprendosi col segreto del voto quindi il voto segreto è una grande tentazione per le opposizioni che cercano di utilizzarlo al massimo al fine di entrare nelle divisioni della maggioranza questo è lo schema che ci è sempre stato bene nella prima legislatura 1948 1953 patto atlantico guerra fredda cortina di ferro e compagnia bella su 1114 sedute di camera e senato ci sono stati 175 voti segreti 1114 sedute soltanto 175 voti segreti ho preso una legislatura di grande tensione quando cominciava mi avviso la crisi del sistema dei partiti 1983 1987 634 sedute 2485 voti segreti cioè quando comincia la crisi dei partiti comincia a imballarsi il Parlamento perché i partiti non riescono più a mediare non riescono più a risolvere ragionevolmente i conflitti che ci sono tutto si scarica nella competizione parlamentare e il problema in Parlamento non diventa più quello di trovare una soluzione ragionevole ma quello di impedire che l'altro decida e lo dico perché questa è stata anche responsabilità nostra non solo di altri man mano che i partiti si indebolistano si scaricano sul Parlamento problemi e tensioni che i partiti non sono più in grado di risolvere e questo accade a mio avviso in sostanza a partire più o meno dagli anni metà anni 70 quando cominciò a nascere nella società italiana ho spinte completamente nuove penso al femminismo penso all'ambientalismo penso a questo tipo di questioni che erano il tutto estraneo alla cultura dei grandi partiti dell'epoca che erano maschilisti industrialisti questi temi non c'erano e qui comincia a come dire a difettare tu dicevi Gustavo una cosa molto importante poi i partiti devono avere un'idea della società comincia a difettare un'idea della società in credo in tutti i partiti politici e comincia un processo di allontanamento dei partiti dalla società i partiti hanno due funzioni quello di rappresentare governare e capire la società è quello di competere per il potere di governo se voi fate mente praticamente da seconda metà negli anni 70 in poi comincia via via ad allentarsi il rapporto tra partiti e società e la competizione dei partiti si misura sempre di più sulla questione del potere e questo ha caratterizzato una difficoltà di lettura della società italiana che è andata sempre più crescendo nel tempo il problema che abbiamo oggi a mio avviso è quella di recuperare questa capacità e cercando di distribuire i problemi quelli che sono problemi della costituzione giustamente Gustavo dice Luciano non è un costituzionista io sono un penalista insegno altre cose molto meno entro dall'entrata di servizio diciamo così ma voglio dire che 30 anni di vita parlamentare 35 anni di vita politica mi hanno insegnato qualcosa su come funzionano le istituzioni e quindi solo a questo titolo ne parlo e il il problema ci sono questioni che riguardano i partiti questioni che riguardano il funzionamento del Parlamento in particolare in quanto tale e questioni che riguardano la costituzione volta a volta è accaduto che si è come dire si è scaricati sono scaricati i problemi a volte tutti sul Parlamento a volte tutti sulla costituzione senza una capacità di capire ciò che bisogna mettersi da una parte ciò che è dall'altra e così via e tra l'altro questo è stato determinato anche dal fatto che a mio avviso dalla fine insomma dall'assassino di Moro in poi noi abbiamo vissuto prevalentemente in base al principio di emergenza emergenza terroristica emergenza mafiosa emergenza della corruzione emergenza del debito pubblico emergenze emergenze continue che ci hanno anche siamo stati anche come dire abbiamo soggiaciuto a questa questione e questo come dire ci ha impedito di ragionare in termini di futuro non solo prossimo ma anche di futuro remoto poi noi non ci saremo alcuni di noi ci saranno ma insomma bisogna pensare anche a quello che succederà dopo non solo a quello che succede adesso allora adesso in che condizioni ci troviamo guardate io volevo citare un altro dato che mi ha interessato noi abbiamo un problema di questo genere il c'è una tendenza ecco allora riprendo il titolo di una lezione Leopoldoria fece una lezione quando ebbe un riconoscimento particolare dell'università di Torino sulla presidenzializzazione della politica c'è una forte tendenza oggi alla presidenzializzazione del sistema politico ma determinato non solo dagli aspetti patologici del carisma di queste cose qui ma anche da un'altra esigenza che chi rappresenta il paese in consessi dove si decidono le cose fondamentali del paese non è il Parlamento non è il Presidente della Repubblica non è il Governo è il Presidente del Consiglio che incontra non il Presidente di un Parlamento e parlamentare incontra il suo omologo il Cancelliere Telesco incontra il Presidente della Repubblica Francese che è anche capo dell'esecutivo incontra i suoi omologhi e deliberano insieme cose che poi trasferiscono all'interno dei Parlamenti laddove il sistema politico funziona meglio il Cancelliere non si reca in un consenso internazionale da decidere cose importanti senza avere prima l'assenso del Parlamento e da noi non succede si dice non sempre succede diciamo così perché il Parlamento non decide non è in grado in realtà non è così e che si è trovato sostanzialmente assai più comodo lavorare sulla base dei principi d'emergenza ancora recentemente dovendo il Presidente Monti andare in un recente incontro incontro internazionale dove doveva portare l'approvazione di una legge e cosa ha detto decreto legge fiducia e si vota negli ultimi 4 anni il 95% delle decisioni di spesa sono state prese per decreto legge cioè il Parlamento non ha contato nulla sulle questioni di spesa che poi sono le questioni fondamentali della nostra vita rispetto a questa questione come ci poniamo insomma questo è un po' è un problema che abbiamo ci troviamo nella necessità certo i partiti devono riprendere il loro peso ma questo sistema parlamentare così come funziona le regole parlamentari queste regole sono quelle giuste in una situazione nella quale la velocità nella decisione è un punto essenziale è giustissimo bisogna vedere quello che si decide naturalmente ma decidere una cosa eccellente nei tempi sbagliati è inutile che altri decidono prima e qualche volta meglio di te non è che una decisione rapida sia di per sé panacea per carità una decisione rapida cattiva è ancora peggio però l'alternativa non è questo è come si può decidere bene in tempi assai più ridotti la seconda questione è questa noi oggi per il meccanismo che riguarda il sistema di decreti legge che guardate non cambierà l'ha fatto Prudi l'ha fatto Berlusconi lo sta facendo Bonti credo che lo farà anche il prossimo perché ormai è diventata come dire una comoda una comoda via d'uscita allora se non rivediamo il procedimento legislativo il Parlamento sarà sempre più fatto fuori e noi oggi abbiamo un dato che voglio ricordare che il 50% dell'attività legislativa nazionale delle regioni e dello Parlamento nazionale dipende da decisioni internazionali o comunitarie il 50% le leggi del Parlamento sono attorno al 20% attorno al 80% sulle leggi regionali questo è il quadro in quel 20% rientrano con un enorme numero di decreti legge ora io credo che sempre di più si va verso un Parlamento meno legislatore ma questo vuol dire che dobbiamo avere un Parlamento più controllore il Parlamento attuale non è in grado di controllare perché non ha i dati non ha i numeri e non ha le competenze perché controllare è molto più difficile che fare le leggi è molto più difficile deve avere dati conoscenze meccanismi di cui il Parlamento oggi non dispone neanche del quantum di spesa disponibile tanto che è accaduto in ultimo tempo Pierluigi mi può dare atto in tre occasioni il Parlamento ha approvato delle leggi e il ragionista dello Stato ha detto che non c'era la possibilità di dare il via perché non c'erano i soldi e quindi le leggi come se non fossero fatte perché il Parlamento non possiede i dati allora questi problemi di trasformazione sono problemi che riguardano in parte i partiti in parte le regole i regolamenti parlamentari ma in parte riguardano anche la Costituzione se vogliamo mantenere quel livello di sovranità di sviluppo dei diritti del nostro Paese che pensiamo tutti vogliamo ecco queste sono le questioni che abbiamo davanti certamente c'è poi stato anche un uso politico della Costituzione cioè l'uso della Costituzione al fine per esempio di costruire alleanze quando il centrodestra ha fatto la sua riforma della Costituzione due legislature fa credo la tua 2001 2006 qual era il senso di quella riforma il senso è che ciascuna componente del centrodestra aveva del suo perché la loro alleanza nazionale aveva un principio che riguardava la sovranità dello Stato sulle regioni il PDL aveva i poteri del Presidente del Consiglio dei Ministri la Lega aveva il federalismo e per l'altra parte accadeva l'Udc non chiese nulla quando finì il gioco gli dice guardate io voglio la legge elettorale proporzionale è quella la calderola che abbiamo adesso cioè questo meccanismo di uso politico della Costituzione della legge elettorale è stato poi disastroso per fortuna come ricordava Pierluigi referendum popolare ha zerato da riforma e ha rivigorito la Costituzione io però credo che dovremmo riflettere tra di noi con grande serietà su che cosa appunto va risolto sul terreno della ripresa di relazione tra partiti e società che cosa va ripreso a livello di regolamenti parlamentari e che cosa va preso invece va collocato sul terreno della riforma costituzionale questo credo che sia un ragionamento da fare e deve essere un ragionamento da fare come dire con sufficiente tranquillità davanti e senza l'angoscia che c'è l'emergenza bisogna fare necessariamente questa cosa così altrimenti si fanno dei pasticci ecco questo è il come dire il tipo di problemi a mio avviso che abbiamo davanti sulla questione del e finisco sulla questione di capire perché non si fanno non si fanno riforme e così via non so se è stato un male o è stato un bene alcune volte è stato un bene che non si siano fatte cose che erano sbagliate ma certamente credo che occorrerebbe anche un'interlocuzione maggiore lo dico a Gustavo tra il mondo costituzionale e il mondo politico non in termini solo come dire di antagonismo reciproco o di disattenzione reciproca ma insomma occorrebbe la possibilità e speriamo che ci sia nella prossima legislatura di un dialogo disteso tale che il complesso delle competenze e delle sensibilità che sono nel mondo costituzionale non possono che suggerire soluzioni guardate che la politica ha un bisogno enorme di un rapporto con le competenze con le competenze poi la scelta la fa la politica e alla politica risale la responsabilità ma io vedo che si è interrotto da tempo una relazione un rapporto un canale ma non di consultazione come dire occasionale parlo di un canale in cui ciascuno fa il suo mestiere sia ben chiaro ciascuno tra la sua parte ma ciascuno come dire offre servizi all'altro sulla base di una visione comune della nazione e io spero insomma guardate se non si riprende questa possibilità di comunicazione sarà difficilissimo fare delle cose che vanno bene che funzionano e sarà anche difficile come dire riprendere in mano il filo della lotta alle diseguaglianze che è una delle grandi ragioni per far funzionare il sistema istituzionale e Giorgi sa perfettamente ragione perché è uno dei grandi meccanismi che se come dire la macchina pubblica non riesce ad essere una macchina che riequilibria il meccanismo delle diseguaglianze valgono i rapporti di forza valgono i rapporti di censo valgono le cose che sappiamo ecco questo è il terreno su cui dobbiamo misurare l'ultimo perché non si fa la legge elettorale secondo me si fa si farà perché credo che tutti hanno capito eccetera giocano su questo una serie di problemi che sono questa volta più nella parte nell'altro campo non il nostro cioè il problema della rottura tra gli ex AN e gli ex BDL il problema di un rapporto tra il PDL la lega come viene giocato e così via se Formigoni se ne va e va uno della lega presiede la regione Lombardia e quindi si rifà un certo tipo alleanza e quindi conviene una legge elettorale piuttosto che altra c'è solo un punto l'esperienza francese ci insegna che quando qualcuno ha voluto il proporzionale per superare il maggioritario e vince le elezioni li ha perse quando quello che poi vinse e vuole cambiare il nuovo sistema li ha persi lo stesso perché i cittadini ragionano sulla base del risultato che vogliono ottenere non si fanno come dire illudere dalla regoletta elettorale e c'è un dato finale che nessuna legge elettorale ti può dare i voti che non hai no è chiaro se non ce l'hai non ce l'hai c'è poco da fare e quindi allora il punto di fondo e qui finisco è anche una responsabilità dei cittadini perché non possiamo aggiungere protesi a protesi no? trasformiamo la migliore minoranza e maggioranza assoluta e guardate qui salta c'è un problema di rappresentanza insomma cioè quelli poi che rappresentano la maggioranza dei cittadini non sono maggioranza in Parlamento e c'è qualcosa che non funziona in questo ragionamento e allora c'è anche un problema come dire io spero che ci sia una competizione elettorale che parli ai cittadini sul terreno della responsabilità poi ciascuno voterà come riterrà ma il problema di fondo ripeto che non potete chiedere alla legge elettorale quello che i cittadini non hanno dato e quindi c'è bisogno che i cittadini sentino responsabili costruttori di una maggioranza e non destinatari puramente televisivi di un dibattito tra forze politiche ai quali loro si sentono sostanzialmente strani Volevo fare un piccolissimo cambio di programma del programma che io mi ero dato chiedendo a Gustavo Zagrebelsky se voleva rispondere subito a Violante su due punti il primo quello dell'alleanza tra mondo costituzionale e mondo politico la penultima question dell'alleanza della collaborazione chiedo scusa e l'ultimo che ha sollevato sulla responsabilità dei cittadini e sul fatto che nessuna legge elettorale possa dare i voti che non hai perché mi sembra che questi due punti lo hanno stimolato e quindi finché raffresco volevo chiedergli di rispondere naturalmente a questo punto ci sarebbero tantissimi spunti da raccogliere io non so neanche da dove incominciare questi due tuoi ma anche altri insomma se uno si pone dalle se qualcuno ha ascoltato i discorsi che sono stati fatti qui mi pare che si possano cogliere due linee nei primi interventi c'è stata la sottolineatura molto forte spero che sia risultata la forza di questa sottolineatura circa la necessità di una ripresa della vita politica della politica se non c'è politica la democrazia è destinata ad avvizzire e a decadere si è fatto riferimento al governo tecnico il governo tecnico andava benissimo all'inizio è stata una necessità almeno così io ritengo l'alternativa è andare alle elezioni anticipati in quel contesto ma il governo tecnico che si stabilizza come governo normale è la morte della democrazia allora detto questo emerge non tanto la responsabilità dei cittadini Luciano certo siamo tutti d'accordo che dei cittadini al voto ma la responsabilità dei partiti politici che devono presentarsi ai cittadini in veste rinnovata capaci di riacquistare quella fiducia che è fondamentale per la vita della democrazia se volete molto banalmente io mi aspetto che i partiti politici scusate in particolare questo partito politico si dia da fare scusate la banalità per vincere le elezioni vincere le elezioni vuol dire avere un programma e vuol dire mettere il programma e il disegno quel tal disegno della società italiana nella quale il partito si riconosce su cui chiede mobilitazioni e consensi e questo disegno venga prima del discorso sulle alleanze le alleanze a destra o a sinistra prima i partiti politici devono darsi una loro identità che sia in grado di essere riconosciuta e su questo ottenere il consenso dei cittadini responsabili ma bravo sono cose sono cose così evidenti che a me pare che dovrebbe essere perfino superfluo dire e a questo punto scusate poi piccola parentesi io ho un rapporto personale con Pierluigi Bersani che considero una delle persone migliori del nostro panorama politico su cui si può fare un investimento di fiducia se volete faccio anche un'altra piccola parentesi ho un rapporto cioè non ho nessun rapporto e non voglio avere nessun rapporto con altri personaggi emergenti all'interno del partito democratico per i quali no per i quali cioè pensando al quale non faccio il nome ma avendolo visto in televisione come i quali i quali in termini generici mi è venuta in mente una bellissima espressione che non so a chi riferire cioè questa è una citazione mi piacerebbe che fosse una citazione di me medesimo ma è di un altro ma non so dire chi che dice se nell'eloquio di una persona non ci sono ogni tanto incertezze diffidate di questa persona perché vuol dire che quella persona parla come una macchina indottrinata e colui che parla come una macchina indottrinata non merita la nostra fiducia chiuse queste piccolissime parentesi ma ritorno alla politica se volete del PD così come è impersonata oggi dal segretario Bersani ripeto ribadisco quello che ho appena detto ma se vogliamo vincere le elezioni non bastano le cose che dicevo prima bisogna acquisire a quel programma a quel progetto a quel partito se volete a questo partito delle forze sociali dei soggetti votanti che oggi non votano ora non votano non votano del tutto o votano altrove allora qui bisogna fare attenzione c'è oggi nel nostro paese una enorme esigenza e domanda di rinnovamento che vuol dire rinnovamento generazionale non perché si debba fare l'elogio del giovanilismo ma perché effettivamente come in tutte le attività umane il decorso del tempo e diciamo i rapporti le relazioni che si stabiliscono nel corso del tempo creano pesantezza creano legami che ti vincolano mentre c'è bisogno di un rinnovamento che metta nella politica delle forze delle forze non delle forze nuove ma delle forze fresche ecco usiamo questa parola come il romanzo di 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 Veltroni è stato definito da da Lema un romanzo fresco ecco allora abbiamo bisogno non so se sia stato un grande complimento fresco no no ma il pezzo la recensione dice che è un romanzo fresco io se avesse scritto un libro qualcuno mi dice hai scritto un libro fresco mi sentirei un po' un po' in imbarazzo ma comunque sia e voglio essere chiaro ciò che sta da quell'altra parte oltre il PD e che diciamo è il mondo che noi con troppa sufficienza qualifichiamo come mondo antipolitico guardate che è un errore clamoroso in quel mondo c'è tanta roba diversa ci sono delle cose molto brutte forse anche i soggetti più rappresentativi di quel mondo ci piacciono molto poco ma dentro e li conosciamo c'è tanta gente che invece professa esigenze di rinnovamento che è un grande partito che si propone un rinnovamento della vita politica non può trascurare e tantomeno può bollare come antipolitico peggio che mai come fascista questo lo dico lo dico se ci fosse Bersani lo direi a lui perché queste tali persone ripeto c'è del buono e c'è del molto cattivo ma c'è anche del buono costoro che si sentono bollati come antipolitici che reazione hanno scusate si incazzano con chi glielo dice mentre quello dovrebbe essere un serbatoio di energie nuove che dovrebbe servire anche a rinnovare una certa sclerosi delle forme politiche e partitiche che abbiamo nel nostro paese cioè il rapporto con questi soggetti è un rapporto difficile ma che va governato e che non va chiuso in maniera drastica con formule di slogan che francamente a me paiono anche autolesionistica quindi dico per esempio per me va benissimo il rapporto con vendola con però anche qui è una questione si mettono prima le alleanze della definizione io vorrei un partito che io vorrei un partito che si possa sapere che cosa è è una richiesta come su alcune cose chiare per esempio qui si è parlato di presidenzialismo allora Pierluigi Castagnetti si è espresso in maniera estremamente chiara contro il presidenzialismo Luciano Violante ha fatto un discorso che può andare in varie direzioni scusami se così si è così se così interpreto ma per esempio ci sono esponenti autorevoli del partito democratico che hanno proposto recentemente un referendum di indirizzo per il presidenzialismo cosa strappalata questo referendum di indirizzo qualcuno ha detto ma si il presidenzialismo è troppo tardi adesso ne parliamo nella prossima legislatura ecco io vorrei sapere qual è l'idea istituzionale di fondo che poi significa anche qual è l'idea politica di fondo che il partito democratico mi propone su una cosa così rilevante come è questa cioè c'è da fare chiarezza su questo c'è da richiamare all'ordine un partito adesso non sto facendo l'elogio del del centralismo democratico però non si può ammettere che uno dica una cosa l'altro dica un'altra e l'elettore vota che cosa l'elettore non vota non so sono stato sufficientemente chiaro su questo poi voglio dire è difficile tutto questo il partito democratico ha assunto come sua linea la non personalizzazione della leadership e questo è nella linea che piace a noi ho l'impressione non c'è la faccia di Bersani nei manifesti elettorali ma c'è il nome di un partito come luogo di coesistenza di collaborazione tra tanti come struttura di servizio alla partecipazione politica e quella è un'indicazione però voglio dire non è sufficiente questo è un aspetto simbolico ma non è non è sufficiente allora e che dico qual era la domanda la domanda è perché non non si fanno le riforme ma non si fanno le riforme perché le riforme costituzionali tutte e la riforma elettorale forse più delle riforme costituzionali toccano interessi particolari e non solo li toccano in momenti in cui ciascuna forza politica è in grado di calcolare il vantaggio o lo svantaggio per sé e per gli avversari che possono derivare da questa quella modifica istituzionale e questo crea il blocco allora soprattutto in una situazione di equilibrio disequilibrato quello che che ricordava Castagnetti un parlamento cosa sta succedendo semplicemente piove non pensavo che succedessero cose più 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 gravi venite 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 a noi come dice ecco allora in una situazione come questa è difficile immaginare delle riforme costituzionali a meno o anche elettorali Vera Schiavazzi ha ricordato che io sono presidente di un'associazione che si chiama libertà e giustizia mesi fa avevamo lanciato il slogan mai più al voto con questa legge elettorale questo l'ha detto anche mi pare il presidente della repubblica quindi è una citazione di libertà e giustizia sono molto onorato siamo molto onorati visto che ci sono vari ma siamo realisti è immaginabile in questo contesto una buona legge elettorale Luciano in un contesto in cui l'accordo speriamo sia ben chiaro io mi auguro che alla fine prevalga prevalga il senso delle istituzioni e non si faccia una legge elettorale che invece serve ad accontentare le aspettative di questo o di quell'altro con un risultato che i cittadini non capirebbero esempi il premio di maggioranza allora le oneste leggi elettorali sono quelle che si basano su un chiaro principio di giustizia elettorale i principi di giustizia elettorale che mondo è mondo sono due quelli puri o il sistema proporzionale che dà a tutti in seggi ciò che hanno ottenuto in percentuale in voti quindi il Parlamento come miniatura diciamo del panorama politico del paese oppure un sistema maggioritario che dà la vittoria al più forte nei sistemi proporzionali non c'è l'idea del vincitore non è proprio previsto naturalmente se uno tiene più voti di quanti non aveva prima diciamo vinto le elezioni ma invece il sistema maggioritario proprio è mirato a individuare il vincitore e lo sconfitto questi sono i due sistemi puri che corrispondono a un'idea ciascuna di giustizia elettorale poi possiamo in nome di qualche altra esigenza correggere questi sistemi puri per esempio ciò di cui si sta discutendo in questo periodo un sistema elettorale basato fondamentalmente la logica elettorale è quella proporzionale però lo correggiamo con un premio di maggioranza il premio di maggioranza deve essere giustificato da che cosa da una esigenza pubblica costituzionale quella che si chiama la governabilità rendere un Parlamento governabile ma allora il premio di maggioranza deve essere dato in maniera tale che chi prevale nel maggioritario nel proporzionale sia messo in condizione di disporre della maggioranza dei seggi in Parlamento ma ciò di cui si discute oggi è un premio di maggioranza al partito più forte ma non è un premio di maggioranza è un premio al più forte come si giustifica questo poi ce lo spiegherai tu c'è stato un momento in cui nella discussione sulla legge elettorale erano previsti tre premi di maggioranza almeno così si è detto un premio un po' più grosso al più quello più grosso al partito più grosso un secondo premio un terzo premio un po' come un po' come sì un po' come alle Olimpiadi che c'è il primo il secondo il terzo dei premietti è una cosa insostenibile però capite qual è la logica dare a coloro il cui consenso è necessario per raggiungere una maggioranza in Parlamento un'attrattiva un premietto allora questo premio di cosiddetto di maggioranza che non è di maggioranza al partito più forte che non gli garantisce affatto di poter poi disporre della maggioranza in Parlamento è una cosa francamente ingiustificata il listino cos'è il listino? allora il listino è un diciamo un un prolungamento della logica del porcellum cioè una quota di seggi riservate sono schematico va bene comunque ma anche il porcellum cioè quella è un listino sì un listino cioè una quota di seggi in Parlamento riservati alla designazione delle direzioni dei partiti su cui gli elettori non possono non possono influire ecco anche questo nell'ottica del rinnovamento della politica è una mossa del tutto controproducente si dice ma non possiamo privare il Parlamento della esperienza di esponenti politici che hanno dato molto al nostro paese dobbiamo garantire a costoro la elezione e perché ma se sono esponenti di così alto merito e lo dico del tutto senza ironia che hanno acquisito tanti meriti nella vita pubblica perché non si presentano fuori del listino e vengono eletti dei cittadini questo l'idea del listino nasconde un disprezzo nasconde un disprezzo oligarchico nei confronti degli elettori ecco allora sarebbe un'ottima cosa se il PD dicesse non voglio nessun listino sarebbe un fatto di rinnovamento che i cittadini credo apprezzerebbero moltissimo e poi e poi caro Luciano io ti sono caro Luciano ci conosciamo non so da da quanti anni diciamo che come tutte in tutte le amicizie oneste le nostre posizioni non sono sempre state le stesse forse perfino un eufemismo ecco allora fatta questa premessa io ti sono particolarmente grato dell'accenno che hai fatto alla fine del tuo discorso sulla esigenza di una collaborazione di una cooperazione però per questo ci vogliono le condizioni scusate se io sono brutale ma io sono stato scusate se parlo di me medesimo ma siccome è stato un discorso ad persona io sono invitato molto spesso alle cosiddette audizioni in Parlamento su qualche provvedimento o fondazioni scusami anche qui forse non vorrei parlare dei presenti ma io considero le fondazioni di partito cioè quelle fondazioni istituite da esponenti di partito delle deviazioni per un partito politico la fondazione dovrebbe essere il partito non quella struttura che gli esponenti di rilievo di un partito si creano per sé perché sono forme di frazionismo ecco sono un sono un vecchio comunista sono forme di frazionismo oppure in certi casi come risulta anche dalle informazioni giornalistiche spesso sono delle forme di acquisizione di finanziamenti che attraverso i partiti non si avrebbero insomma modi per eludere i limiti i controlli al finanziamento dei partiti ma però lasciamo perdere questo sarebbe per esempio una opera meritoria del partito democratico se si azzerassero le fondazioni di partito e tutte le energie che vengono coinvolte in queste fondazioni venissero riversate nella vita del partito per questo dicevo il partito dovrebbe essere una fondazione allora però ritorno al discorso di prima ci vogliono delle condizioni io francamente intanto le cose che coloro che studiano queste questioni e scrivono queste cose sono note non c'è bisogno di andare a partecipare ma sapete come funzionano le audizioni in Parlamento si convocano 50 costituzionalisti dalle 10 del mattino alle 4 del pomeriggio amici cari saluti e baci che lavoro serio è questo non è un lavoro serio infatti il conto di quanti minuti ci sono a disposizione pausa pranzo compresa diviso per 50 dite che contributo si può dare in quel modo allora un rapporto serio quello non è un rapporto serio è un rapporto di strumentalizzazione ragioniamo su come è possibile costruire delle forme di collaborazione costruttiva naturalmente nel rispetto delle reciproche responsabilità perché le responsabilità della cultura in generale cultura giuridica o costituzionale in particolare e le responsabilità della politica sono molto diverse quindi una cooperazione senza coinvolgimento ragioniamo su questo e naturalmente io e molti come noi sarebbero disponibilissimi a dare un proprio contributo a condizione che questo contributo si presenti come non un orpello della politica ma come una forza effettivamente incidente nella politica nel rispetto reciproco luciano cosa ti devo dire ho già detto tutto grazie chiederei insomma direi che l'elettorato del PD quello che ha resistito alla pioggia ha fatto pienamente pace con Zagrebels che anzi si è addirittura commosso chiederei a Castagnetti e a Giorgis brevemente stai scegliendo un punto due tra quelli che Zagrebels posso solo aggiungere una cosa sulla questione diciamo della disillusione costituzionale di cui avete parlato io sarei molto meno pessimista poi naturalmente ognuno di noi ha la propria esperienza ma io forse anche Andrea abbiamo una consuetudine di rapporto con le scuole con i giovani presso i quali un bisogno di discorsi costituzionali con ciò che ciò comporta dal punto di vista culturale e anche di mobilitazione di energie abbiamo un rapporto che negli ultimi anni è cresciuto e che noi non ci potevamo immaginare vent'anni fa in realtà la costituzione è diventata in questo contesto di sfarinamento politico forse l'ultimo punto di riferimento a cui vale la pena riferirsi teniamocelo caro ma ripeto non mi pare che si debba eccedere in pessimismo la vicenda del referendum qualcosa ha dimostrato io non so se un referendum su una modifica di quale è fatta oggi non avrebbe lo stesso risultato o forse addirittura un risultato più pro costituzione non lo sappiamo io penso forse perché su questo sono un ottimista penso di sì Castagnetti e Giorgis in questo ordine brevemente chiederò di rispondere a una delle tante proposte che Zagrebelski ha fatto per il rinnovamento dei partiti e di questo partito in particolare ne cito tre no a qualunque forma di listino per dirne una e anche il suo grande scetticismo sui premi di maggioranza in genere la questione del rinnovamento generazionale del partito del partito fresco e anche la questione del dialogo che si deve avere con tutto ciò che sta alla sinistra del PD e in particolare sull'inopportunità di chiamare antipolitico e fascista un certo mondo sulla necessità di avere un atteggiamento dialogante e rispettoso di ogni cittadino è difficile non essere d'accordo con l'invito di Zagrebelski invece sul listino io vorrei che considerassimo anche un altro aspetto che non va trascurato innanzitutto nella costruzione di un sistema elettorale sì la chiarezza è importante certo però attenzione anche qui non è decisivo che il sistema elettorale proposto sia un sistema che è facile spiegare nei suoi meccanismi tecnici di applicazione quello che conta a mio avviso è che il sistema elettorale consenta di soddisfare una serie di esigenze che se la formula è troppo semplice non è possibile soddisfare vengo subito alla domanda di Vera se si dovesse introdurre un sistema come diciamo molti auspicano e anche il nostro partito auspica di collegi uninominali nei quali il cittadino sceglie il proprio rappresentante in una competizione tra singoli candidati beh io credo che sarebbe invece desiderabile introdurre delle forme che mitighino le conseguenze di una competizione elettorale tutta giocata su singoli candidati perché perché all'elettore la scheda elettorale che contiene soltanto il nominativo del candidato nel collegio è un elettore che non ha di fronte una proposta di lista e di partito ma una singola personalità è un sistema un buon sistema elettorale è un sistema elettorale a mio avviso per essere coerente con quello che cercavo di dire prima che al tempo stesso consente ai cittadini di incidere sulla scelta dei singoli candidati persone fisiche ma al tempo stesso non accentua troppo non esaspera la personalizzazione della competizione e consente ai cittadini di pronunciarsi sulla lista in quanto lista e anche qui lasciatemelo dire se non ci fosse questo generale impazzimento non ci sarebbe niente di strano niente di strano nel considerare come prerogativa del partito individuare alcuni candidati e l'elettore di fronte a quella scelta che viene operata dal partito che si assume la responsabilità della scelta vota quei candidati oppure non vota quel partito cioè nella normalità dei casi il partito si assume la responsabilità della scelta del candidato e nell'esercitare questa diciamo funzione svolge quella che è la sua naturale prerogativa l'elettore dopodiché se non è d'accordo con la scelta operata dal partito può anche non votare o votare un altro un altro partito perché dico questo perché non dobbiamo secondo me cadere nell'idea che ci sia una diciamo inevitabile violazione del principio democratico se i candidati non possono scusate se gli elettori non possono decidere in maniera diciamo integrale quello che ogni partito compie come sua naturale funzione che è un'offerta politica e al tempo stesso un'offerta di candidati di persone le due cose viaggiano insieme perché è normale che un'associazione nell'offrire un programma politico offra anche delle persone e nell'assumersi della responsabilità di scegliere queste persone non diciamo non è disposta ed è bene che sia così secondo me anche se adesso non ho tempo per argomentarlo ad aprirsi oltre un certo limite perché perché altrimenti il partito perde quella che è la sua diciamo responsabilità e la sua diciamo funzione di autonomia dal contesto sociale è un discorso questo mi rendo conto che non strappa nessun applauso specialmente di questi tempi ma io sono invece convinto che avere nella scheda elettorale non soltanto un singolo individuo ma anche una lista una lista breve e fa la differenza tra una lista breve e una lista di 30 o 40 candidati perché quella lista breve rappresenta il modo attraverso il quale il partito politico si presenta all'elettore in quanto partito politico poi si possono immaginare molti tutti ma infatti le due cose insieme però non è che l'uno neghi l'altro cioè non è una diciamo una versione in salsa come dire democratica dell'attuale Porcello mi immaginare un brevissimo listino che peraltro è ciò che c'è in Spagna ciò che c'è in Germania e che viene diciamo in quel contesto percepito come un'offerta politica che il partito deve responsabilmente svolgere se vuole ottenere consenso se un partito vuole ottenere consenso deve essere in grado di selezionare persone credibili ma se non si muovesse da un pregiudizio nei confronti del partito non si arriverebbe ad escludere radicalmente la titolarità in capo al partito di indicare alcuni candidati che sono inseriti in una piccola lista pure bloccata due o tre candidati sì quei due o tre candidati rappresentano la faccia non più individuale come singolo ma collettiva del partito politico io devo dire in questo non ci trovo come dire nulla di particolarmente diciamo contrario ai principi di una serata democrazia ma insomma fa parte del come dire del se il partito ritiene fa le primarie altrimenti consulta gli iscritti e attraverso la consultazione degli iscritti i gruppi dirigenti svolgono la propria funzione di gruppi dirigenti se sono naturalmente in grado di compiere delle buone scelte saranno confermati altrimenti saranno gruppi dirigenti che perdono il proprio consenso e la propria credibilità di nuovo fa parte anche questo di un sentire che non solo non è diffuso ma è quotidianamente contrastato e avversato e secondo me sarebbe bene quantomeno riflettere su quanto è come dire desiderabile insistere in questa destrutturazione e delegittimazione di ogni decisione che viene assunta da quelli che vengono definiti come gruppi dirigenti perché la come dire va bene esatto ma certo nel mio discorso non è che non sono indicati dal partito anche quelli nella legione nominale ma questa obiezione che ci mancherebbe più che giusta ma anche quelli del listino sono eletti dai cittadini mica sono calati dalla luna sono eletti dai cittadini anche quei due o tre candidati che vengono inseriti nel listino anche se non c'è un meccanismo di preferenza all'interno di quei candidati che pure sarebbe la soluzione come dire che ecco la preferenza è lo sistema ma il fatto che ci sia un breve listino non significa che quei componenti del breve listino non siano anch'essi eletti direttamente dai cittadini dopodiché adesso non perdiamoci in queste considerazioni ma non perdiamoci solo perché altrimenti come dire ci si avvita su considerazioni che ho voluto come dire sottolineare solo perché vorrei tenere fede all'idea secondo la quale chi ha un microfono in mano e chi ha la possibilità in qualche misura di parlare e non di dialogare perché questi sono confronti in cui noi parliamo e voi ascoltate non cede mai alla tentazione di contravenire a quella che è una convinzione profonda assecondando ciò che sa benissimo essere l'opinione della stragrande maggioranza di coloro che lo ascoltano accetto la correzione del professor Zagrebeschi sull'eccessivo pessimismo anch'io credo di essere stato un po' pessimista ma non rinuncio a una preoccupazione che è quella che ho detto insomma che si vada diffondendo una convinzione che la Costituzione insomma la si può cambiare non solo nella seconda parte ma la si può cambiare abbastanza disinvoltamente perché insomma è un tabù che è considerato non più dalla maggior parte io temo dalla maggior parte dei cittadini in ogni caso io vedo che c'è un allentamento un allentamento di valorizzazione insomma della carta costituzionale per quello che è vado di corsa e anch'io sono assolutamente d'accordo sulla centralità dei partiti ne aveva parlato Andrea nel suo precedente intervento sono due legislature che presento una proposta per disciplinare l'articolo 49 della Costituzione credo che siamo assolutamente in ritardo ma non possiamo prescindere dal fatto e questo ha a che fare anche con la riforma elettorale che oggi è caduta moltissimo la credibilità dei partiti e questo è il problema nel senso che guardate l'unico partito che esiste oggi nel panorama politico italiano è il partito democratico se voi guardate intorno non esiste nessun altro partito tutto il resto dello schieramento non è rappresentato da partiti l'unico che di fatto esiste è il nostro e fa fatica anche il nostro a rappresentare la società il mondo l'elettorato tradizionale quello che si sente idealmente collegato al nostro partito perché ci mancano gli strumenti di collegamento perché non ve dubbio che la televisione adesso il discorso si farebbe molto lungo la televisione già da molti anni la rete da meno anni insomma da più di recente hanno cambiato il modo dei cittadini di partecipare alla vita politica una volta il modo di partecipare era quello rappresentato dai partiti si diceva i partiti sono lo strumento attraverso il quale la società si fa stato adesso la società pretende di farsi stato di farsi politica anche al di fuori dei partiti io e Luciano abbiamo partecipato recentemente a un dibattito proprio nella mia città era diretto da un giornalista che è direttore di un giornale online un giornalista tra l'altro che vota il nostro partito ma un giornale online di successo e siamo stati accusati lui e io di non capire che cosa sta accadendo oggi nella rete perché abbiamo detto che la rete è uno strumento nuovo per partecipare alla vita politica ma rimane poi l'esigenza dei partiti di trovare il punto di mediazione ci sembrava di aver detto delle cose anche ragionevoli e ci è stato replicato poi dopo è continuato la discussione anche oltre il dibattito ci è stato replicato che non capiamo che la rete è un fenomeno diverso e questo ha a che fare anche col discorso sul Movimento 5 Stelle a cui ha fatto riferimento il professor Zagrebeschi la rete è il luogo nel quale chi partecipa chi anima quel dibattito ritiene che quella sia la politica che non deve esserci una fase ulteriore di interpretazione e di mediazione parlano la definiscono la democrazia direttista sta crescendo ecco questa convinzione che io decido da me che non ho bisogno di un rappresentante non ho bisogno di una mediazione allora se noi quando parliamo della necessità di ricentralizzare il ruolo dei partiti non teniamo conto che sta crescendo una generazione soprattutto attorno a questi processi che sono processi nuovi che mette in discussione anche il valore della rappresentanza è un problema che non guardate che è una discussione che c'è in Italia c'è in Germania c'è in molte democrazie i piraten ma è una discussione molto molto seria allora un partito come il partito democratico a mio avviso quando Zagrebeschi dice bisogna che si ponga il problema di riconquistare per riconquistare deve innanzitutto riconquistare la credibilità di essere strumento adeguato a interpretare e rappresentare la società e allora non basta la organizzazione tradizionale della militanza degli iscritti perché se la gente poi non viene non milita non partecipa si sente tagliata fuori allora se la gente non viene bisogna che noi andiamo dove è la gente e allora dobbiamo pensare a delle strutture a una struttura capace di aprirsi non solo perché non pone diaframmi all'ingresso ma perché va a cercare la società civile nei luoghi in cui vive una sua espressione una sua esperienza di protagonismo sociale allora bisogna che noi ideiamo delle forme organizzative nuove Zagrebelsky dice le fondazioni di corrente no la fondazione di partito anche questo può essere un'idea che io condivido un luogo in cui il partito dialoga quotidianamente con la cultura con l'eccellenza del paese guardate che da un certo punto di vista i partiti nella primissima fase della prima repubblica non avevano questo problema perché il collegamento con l'eccellenza con l'intelligenza con gli aristoi con l'intelligenza del paese ce l'avevano non c'era l'esigenza neppure di fare dei governi tecnici perché i tecnici erano attratti dall'impegno politico ed erano dentro il parlamento dentro la politica allora però oggi noi questa condizione non ce l'abbiamo ma noi sappiamo che dobbiamo ricreare una condizione di questo genere e allora dobbiamo pensare a delle forme organizzative io voglio dirlo con chiarezza vedo nel partito crescere una certa idea di regressione a delle forme organizzative del passato perché le conoscevamo già perché funzionavano allora quelle forme organizzative lì possono servire per eleggere dei dirigenti ma non servono per aumentare la nostra la nostra capacità di rappresentare quello che si muove nella società quelle forme organizzative lì precludono la possibilità che i cittadini del nostro campo parlo di questo si sentono rappresentati da noi questo è il problema e allora anche il problema del listino che è è un problema aperto ovviamente alla discussione è un problema che ha a che fare con la credibilità dei partiti perché se i partiti non godono più di credibilità della credibilità sufficiente ecco necessaria necessaria per agire questo ruolo e allora è evidente che qualunque cosa anche la loro la scelta la responsabilizzazione dei gruppi dirigenti viene messa in discussione perché non ci si crede perché è quel gruppo dirigente che è discusso perché è un gruppo dirigente che non rappresenta il meglio e il tutto che c'è dietro quella sigla quel programma quella idea di società l'abbiamo definito così il partito allora questo è un problema di rinnovamento di ricambio vedete io ho lo stesso giudizio che è stato espresso qua di Renzi non credo che la politica possa no lo dico io però però c'è una tale rabbia nel nostro intorno che rischia di essere coagulata da queste forme che sono forme che certo non fanno avanzare la politica perché la impoveriscono a mio avviso non la arricchiscono ma il problema dobbiamo porcelo il problema del ricambio lo dice uno che deve essere rottamato e sarà rottamato immediatamente fra sei mesi ma c'è un problema non dico che anche qua si debbano usare dei criteri radicali assoluti io credo che un partito debba salvare anche l'intelligenza e l'esperienza che ha costruito al proprio interno però c'è un bisogno di ricambio perché chi ha vissuto altre stagioni della vita repubblicana non ha gli attrezzi per capire fino in fondo questa stagione nuova e quindi c'è bisogno di fare veramente spazio il listino dicevo prima che almeno se ha da esserci venga utilizzato per fare spazio a questa intelligenza del paese che non ha altra occasione per entrare non i segretari non i segretari non i portaborse di Tizio Caosempronio ecco ma appunto quello che di buono c'è perché c'è molto di buono fuori di noi una volta c'era molto di buono dentro di buono nel senso di qualità ecco di qualità dentro la vita dei partiti oggi ce n'è meno bisogna che questo problema noi ce lo poniamo assolutamente ecco quindi e poi per la legge elettorale dico solo una cosa ancora vera scusa bisogna che ci rendiamo conto che nelle condizioni parlamentari date non va mai dimenticato questo noi potremo solo fare quello che si può fare cioè un compromesso perché perché non c'è altra c'hanno la maggioranza in un ramo del Parlamento cioè assoluta potrebbero fare senza di noi in un ramo del Parlamento non in queste condizioni o torniamo a votare col porcello o troviamo un compromesso non è che faremo la legge elettorale ideale ma allora che cosa è necessario è necessario che ogni partito dica se io avessi la maggioranza è questa la legge elettorale che proporrei perché così come bisogna dire la idea di società bisogna dire anche la idea di istituzioni ecco questa è la legge elettorale su cui mi attesterei e noi l'abbiamo detto dobbiamo ripeterlo tutti i giorni il doppio turno eccetera ma non essendoci le condizioni noi lavoriamo per un compromesso perché non c'è altra strada perché non vogliamo tornare alle elezioni con il porcello con un compromesso che salvaguardi principi che per noi sono irrinunciabili principi quali quello di restituire agli elettori la possibilità di scegliere ad esempio attraverso i collegi elettorali che è già una forma molto importante e oggi una forma preferibile rispetto alle preferenze io non ho un atteggiamento pregiudiziale nei confronti delle preferenze ho fatto vita politica in anni in cui si usavano le preferenze sempre ho avuto le abbiamo usate in modo assolutamente pulito però leggevo un articolo di Dali Monte che dice che anche alle ultime regionali al nord il 20% degli elettori ha espresso le preferenze nel mezzogiorno dove ci sono problemi che sono abbastanza noti l'80% allora c'è anche un problema di evitare di introdurre dei meccanismi che finiscono per screditare anche un'altra legge elettorale allora mi pare che la strada dei collegi sia una strada giusta una strada sensata ma quello che importa è che nella testa del partito cioè di tutti noi ci sia la convinzione che bisogna utilizzare anche lo strumento elettorale per arrivare a un ricambio di classe dirigente che si faccia carico della qualità e come dire della ricchezza plurale che vuole rappresentare quel partito guai se noi pensassimo a delle degli strumenti a delle riforme elettorali con altre riserve mentali grazie grazie ci sono tantissime cose ancora aperte è tardi fa freddo chiederei va bene ma mentre si parlava io pensavo che questa la prossima festa che facciamo sarà già votato no? quindi speriamo di farla come dire come partito di governo quel punto ma perché questo accada c'è bisogno di far funzionare la ragione più che l'emozione in fase di questo genere che abbiamo bisogno come dire di molta anche perché con l'emozione conquisti l'applauso del 30 secondi con la ragione conquisti un consenso permanente allora volevo come dici? ti riferisci a qualcuno? assolutamente no a Renzi a Renzi quindi allora sulla questione del listino volevo chiedere una cosa voi sapete che c'è stato una richiesta di referendum sulla legge elettorale che la corte costituzionale ha ritenuto incostituzionale non accettato qui credo che qualcuno di voi ha firmato per questo referendum e però io ho visto che sono forse qualcuno che ha firmato ha anche prodito la critica all'istino la legge Mattarella che si voleva introdurre quel referendum aveva il listino no? allora che bisogna mettersi d'accordo insomma allora o si sostiene che bisogna fare il referendum perché per avere la legge Mattarella e però non si può criticare il listino la legge Mattarella aveva tantissime cose come quel premio di maggioranza assurdo la legge Mattarella no la legge Calderone aveva il premio di maggioranza no la legge Mattarella non aveva il premio di maggioranza la legge il Porcello si la legge Calderone quel premio di maggioranza assurdo certo e molti sono andati a firmare per l'abrogazione di quello perché non volevano sì sì lo so ma il no no aspetta scusa l'ipotesi era l'ipotesi è cancelliamo questa legge perché così c'è la Mattarella la Mattarella è che è il listino io sto parlando del listino allora non si può no voglio dire soltanto che un minimo di coerenza tra tutti noi ci vuole su questo punto seconda questione e qui c'è un punto l'accusa che ha fatto Bersani a Grillo io vorrei certamente se dicessi 5 stelle sono dei fascisti direi una sciocchezza è un'offesa grave farei perché sono del tutto convinto di quello che ha detto Gustavo guardate quando ci sono più di tre persone c'è qualcuno per bene qualcuno per male non puoi dire in un movimento che è certamente un movimento molto diffuso nel paese c'è di tutto ed è tu come forza politica che vuoi governare devi parlare avere la capacità e l'intelligenza di spostare forze non di chiudere le forze nell'angolo sarebbe una cosa però lì il ragionamento di Bersani o comunque la cosa che ha detto Bersani riguardava la lingua usata da Grillo le cose dette da Grillo larva cadavere che sono tipiche espressioni del primo fascismo e bisogna stare attenti perché il populismo il richiamarsi cioè a un primato assoluto di una volontà popolare come unico elemento da richiamare contro la democrazia contro il sistema politico e così via è stato un elemento che ha accompagnato la nascita del fascismo questo non vuol dire che quelli sono fascisti ci mancherebbe altro ma significa come mettere in guardia contro l'uso di quel tipo di argomenti e devo dire che l'operazione mediatica che ha fatto Grillo che è stata un'operazione puramente mediatica quella di dire avete sentito che è riuscita perfettamente perché sono due giorni che i giornali e televisioni parlano di quella roba lì quindi è stata un'operazione intelligentissima da questo punto di vista ma significa anche il fatto che probabilmente Grillo che non è un comico stiamo attenti Grillo ha fatto una serie di azioni e di operazioni da considerare in un momento in cui Parmalat se ne occupava Grillo nella vicenda Telecom se ne occupava quindi bisogna guardare molto dentro queste cose proprio perché siamo in una fase in cui la ragione deve prevalere dobbiamo guardare molto dentro tutto quello che c'è nella società e quello che c'è in altri movimenti per capire dove bisogna combatterli e dove bisogna anche perché se tu dai su qualche punto che lo merita ragione all'avversario hai molta maggiore regittimazione a criticare lo suo altro e non è un'azione politica seria intelligente costruttiva quella che puramente semplicemente sbatte la porta in faccia agli altri sulla questione del rinnovamento io lui si rinnovamento Pierluigi si rottama tra sei mesi io mi sono autorottamato quattro anni fa ma voglio dire volevo dire una cosa che pochi sanno i gruppi parlamentari e PD si sono rinnovati per il 45% nessuno lo sa nessuno lo sa va bene e sono quindi bisogna stare molto attenti è chiaro che sono nomi che non si conoscono che non escono ma questo per un meccanismo proprio dei mezzi di comunicazione meccanismo per il quale ti chiamano i soliti noti perché fanno audience o tu spari sul quartiere generale o se tu sei un deputato di PD o un iscritto di PD che spara come dire contro il segretario stai sicuro che ti becchi 4 o 5 e ballerò come siete forse stai là devi attaccare così altri ma come dire se magari tu riservi le critiche che sono necessarie naturalmente all'interno delle sedi o comunque come dire svolgi la tua funzione con correttezza eccetera è difficile che arrivi alla soglia perché per i meccanismi della comunizione che sono queste forse noi dovremmo dire meglio e di più questo tipo di cose qualche volta non si dicono perché ciascuno di noi come dire io per primo sono più inclina a dire una cosa come dire che magari mi fai un applauso piuttosto che dire una cosa che invece da un attimo di riflessione in più noi abbiamo utilizzato quella legge Calderoli pessima non sempre bene ma ripeto l'abbiamo usata anche al fine di avere questo tipo di cambiamento noi abbiamo non so se qualcuno lo sa una segretaria del partito che ha metà donne e metà uomini che non c'è nessun altro partito sono cose che servono o no queste Bersani ha presentato Gustavo delle linee programmatiche sono state pubblicate se ne è discusso Vendola ha detto che era d'accordo e sulla base dell'intesa di Vendola su quel programma lì si propone un'intesa con Vendola per le elezioni dopo che Vendola ha detto che era d'accordo su quelle linee programmatiche presentate e quindi è giustissimo che sono d'accordo con te non si fanno prima le realze e poi i programmi poi si succede quello che è già successo e i programmi non possono essere fatti di 254 pagine è chiaro? Fermo questo ripeto questa è un'operazione che Bersani ha fatto e Vendola l'accettata e questa dà bisogno per il quale dice un punto d'intesa ecco allora intendo dire abbiamo fatto tante e così via soltanto sulla questione preferenze guardate che io non credo Pierluigi guarda che poi un po' di criminalità mafiosa c'è anche qui a nord quindi sappiamo bene però io io sono critico delle preferenze per un altro motivo che la preferenza aumenta enormemente i costi della campagna elettorale e premia le persone già note l'outsider come fa a farsi conoscere come dici ma c'era un partito che funzionava ma no guarda scusa se vuoi ti spiego come funzionava allora se lo sai e le preferenze il cittadino lo so che il cittadino dice beh do la preferenza e scelgo stiamo attenti che passano soprattutto poi le posti marginali no ma passano soprattutto quelli che hanno già un'organizzazione alle spalle che hanno un partito che le legge che hanno una cooperativa o che hanno un sistema finanziario sapete quanto costa farsi conoscere non ci si conosce mica sui manifesti non ci si conosce mica sui giornali sui giornali sui giornali sui giornali sapete quanto costa tre minuti o due minuti di televisione locale nelle ore di punta costa una somma di cui nessuno di noi che non so tu Gustavo non penso anche tu nessuno di noi può disporre no diciamo ma dico noi le nostre dichiarazioni le sappiamo che non credi tu allora chi lo può fare questo bisogna ragionare attorno a questo e ragionando guardate che la politica è soluzione razionale dei conflitti la questione dell'antipolitica giustissima che qui sono d'accordo non siamo d'accordo su altre cose ma anche su questo sono d'accordo la questione di fondo della politica che bisogna richiamare è la soluzione sulla base del principio di ragione è l'antipolitica ed è sbagliato criticare tutti gli altri anche perché stanno concorrendo per la politica quindi evidentemente lo so qual è il punto? il punto è il populismo cioè richiamare come dire costantemente un attacco complessivo a tutto ciò che è nel sistema politico anche con stupidagini e richiamare un meccanismo come dire di rapporto diretto tra leader e popolo presunto che salta tutto ciò che è intermedio e questo che ma naturalmente come dire non basta esecrare questa cosa bisogna guadagnarsi e qui io sono d'accordo bisogna mettere in atto come dire la capacità di guadagnarsi il consenso e la legittimazione e quindi come dire abbandonare per un momento il primato della lotta per il potere politico il potere di governo e dedicare una parte del tempo considerevole a quello e finisco su questo guardate che il rapporto umano internet è importantissimo la televisione è importantissima ma non ti dà nulla sul punto di vista della costruzione di una comunità umana un partito è questo è una comunità di persone che si guardano in faccia poi certo assistere alla televisione vedere il dibattito lavorare su internet va benissimo tutto questo ma tutto questo non è sostitutivo perché sono intimi distanti quelli che stanno sulla rete intimi che non si conoscono e in televisione il meccanismo è puramente passivo utile spesso ma passivo ciò che ha segnato anche la frantumazione la frammentazione della società italiana ma non solo quella italiana è proprio come dire il venir meno del partito come rete che tiene insieme una società e questo credo che debba essere lo sforzo che dobbiamo fare in questa fase abbiamo il tempo la possibilità di farlo moltiplicare le possibilità di incontro io ho trovato a volte questo tipo di polemica sindaci di piccoli comuni dicono ma quando c'era il vecchio sistema elettorale noi avevamo il parlamentare del posto c'era un problema chiamavano il parlamentare adesso non sappiamo neanche chi è il parlamentare del posto magari possiamo puntare sul consiglio regionale sul consiglio provinciale perché lo abbiamo eletto eleggerlo serve a stabilire un rapporto col territorio uno dei problemi di fondo guardate la legge Calderori non è solo cattiva di per sé ma è cattiva perché ha segnato il culmine della rottura tra partito e società ha segnato il punto più alto della rottura io l'ho visto una cosa a Messina c'è stato due anni fa non so se ricordate un grande nubifragio con slittamento eccetera mi sono visto i giornali di quella zona perché per capire chi erano i parlamentari che erano andati eletti lì non c'era nessuno perché uno era lì un posto nessuno c'entrava con quella zona catapultato in quel posto e via e quando viene meno il rapporto col territorio c'è poco da fare è chiaro che si rompe il rapporto di fiducia allora il problema della cancellazione di quella legge è assolutamente essenziale per tutti i motivi che ha detto Gustavo che ha detto altri va bene speriamo di farne una migliore anzi migliore sarà non so se sarà l'optimum ma dobbiamo qui voglio richiamare dobbiamo richiamare attenzione sul fatto che non siamo maggioranza in questo parlamento chiaro non siamo maggioranza e al senato è maggioranza su maggioranza quegli altri poi lavoreremo cercheremo di spostare forza e sta cercando di fare per carità tutto quello che si deve fare ma dobbiamo tenere conto come dire che maggioranza non siamo ancora poi speriamo di farlo tra qualche mese ma non siamo ancora e quindi molto serve costruire pratiche razionali di negoziazione tali che spostano gli altri su posizioni più accettabili loro non vogliono il premio di maggioranza alla coalizione e lo vogliono al solo partito perché temono che una coalizione più forte sia quella che fa riferimento al PD piuttosto che ad altri e noi stiamo insistendo per questo ma con una clausola e ve la dico perché altrimenti che facciano parte della coalizione soltanto le forze che hanno superato la clausola di sbarramento altrimenti ci troviamo con coalizioni che ci fanno vincere le elezioni ma non ci consentono di governare cosa abbiamo già visto deve essere sufficientemente rappresentativo per essere sufficientemente responsabile e altrimenti non puoi neanche presentarti credibilmente ecco queste sono le cose poi c'è l'altro ma poi ce lo diremo in un altro momento ma e teniamo conto ripeto che il tempo che abbiamo davanti adesso va speso anche nel chiamare nei circoli del partito tutti coloro che possono se tutti quelli che sono qui sono disponibili o altri che possono venire e discutere e capire 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 chi parla voglio dire non chi ascolta che abbiamo bisogno di ricostruire una rete di relazione di carattere umano insomma che non è internet o televisione e guardarsi in faccia e dicere cose come stanno se riprendiamo questa pratica che è una pratica fondamentale della politica io credo che possiamo poi vincere speriamo di vincere ma il problema non è tanto vincere quanto riunire la parte migliore della società italiana attorno a grandi valori che ci servono poi per andare avanti e guardare al futuro guardate il problema del ricambio generazionale è quello che ha detto Gustavo cioè la mia generazione per capirci ha troppa storia dietro le spalle e non può costruire il futuro chi in quel futuro non ci deve vivere il futuro lo costruisce chi nel futuro deve viverci perché è il suo futuro noi possiamo dare una mano possiamo aiutare se siamo chiamati si aiuta tutto quello che si deve fare si fa è un servizio giusto ma come dire la direzione la marcia deve essere segnata da quelli che nel futuro devono vivere e una delle regioni per le quali il futuro non è stato costruito e che c'è stata troppa generazione che aveva troppa storia da te le spalle e la storia è una gabbia guardate è una gabbia perché ti muovi secondo parametri che hanno fatto parte della tua vita ma che non fanno parte della vita degli altri e devi capire quando arriva questo momento devi capire che è giunto il momento in cui devi fare un passo indietro e lasciare la strada avanti poi se sarai chiamato dare il tuo contributo ma un partito quando è una cosa seria è un ponte tra le generazioni perché passa il valore della generazione a quella successiva e quella a sua volta rilabora secondo i suoi criteri i suoi contenuti e la sua autonomia ecco veramente io spero che dobbiamo lavorare tutti insieme perché il partito democratico sia questo ponte tra generazioni diverse grazie